C'è chi ha già storto il naso? Altrimenti potrebbe fare la fine di Aida. A lui lo vedrei bene a condurre una trasmissione sulla natura. Magari potrebbe insegnare a coltivare zucchini, melanzani, cetrioli e pannocchie ai telespettatori, ha raccontato il paroliere in un'intervista. Questa frecciatina a distanza, sembrava riaprire una polemica mai chiusa tra i due che già in passato, avevano avuto qualche diverbio, eppure Ciacci ha scelto di rispondere a queste parole con un video mandato direttamente a Malgioglio. Sulle note della nuova hit dell'artista, Ciacci accenna qualche passo di danza e sottolinea ironicamente come tra i due non ci sia nessuna guerra in atto. La pace sembra una cosa già fatta. Fotocredits facevo lot leggi anche. Giovanni Ciacci sarà un concorrente del grande fratello VIP. .